sono le 16 spaccate e noi siamo qui buongiorno a tutti adesso sto in silenzio e aspetto gli occhietti eccoci arrivano le persone ciao francesco ciao sono in religioso silenzio aspettando che arriviate 4 occhietti e un saluto eccoci ciao katia buongiorno fiorenza l'autrice buongiorno chissà se arriverà anche oggi l'illustratore alex ciao ben arrivata noi siamo sempre puntualissime devo dire che io katia fiorenza spacchiamo il minuto questa volta ha battuto tutti francesco sempre più abbronzata in realtà è la luce sai perché lo so che non ci crederai ma non prendo proprio mai il sole se non a pranzo forse è sufficiente quello vedi con la quarantena si scopre che bastano pochi minuti allora siamo a quattro occhietti aspettiamo ancora un momento perché in realtà ho tante mamme che mi chiesto di aspettarle intanto potreste scrivermi voi raccontarmi cosa avete fatto questa mattina io ho lavorato tantissimo voi cosa avete fatto simona ciao ben arrivata ecco potete scrivermi in breve che cosa state facendo durante questo periodo di io resto a casa no francesco sicuramente scrive non ho alcun dubbio simona non so non credo che stia lavorando giustamente spero quantomeno che sia a casa fiorenza un po lo so perché ce la chiacchieriamo volentieri allora io direi che ciao sim un bacio allora io direi che possiamo possiamo cominciare intanto vi dico che oggi facciamo l'ultima puntata dei grilli e quindi vedre ecco isabella ciao sei arrivata proprio a fagiolo perché stavo dicendo che oggi finisco l'ultima fiaba cioè l'ultimo episodio dei grilli di linate di fiorenza pistocchi e poi ho cominciato a dare un'occhiata e mi sono già innamorata del pulcino tommaso di isabella ciao claudio di isabella nicora che è qui con noi mangio di continuo uscito per fare la spesa e farmacia un'ora di coda alla copp bene scrivo leggo in grasso benissimo ragazzi mi state facendo venire una gran voglia dicendomi così di fare una diretta un giorno sul mio lavoro ora mi informo se si può fare farò una diretta su facebook e una diretta su instagram e vi racconterò di che cosa mi occupo quando non leggo anzi in realtà dovrei dire il contrario che cosa leggo quando non lavoro allora vediamo vediamo se si può fare lo faccio volentieri perché è interessante qui in mezzo tra i miei ascoltatori c'è già chissà molto bene che cosa faccio perché lavoriamo qualche volta insieme allora cominciamo ragazzi vi racconto la mia super ultima puntata e vi dico che domani non ci vediamo detta così fa brutto domani mi prendo un giorno di pausa e perché voglio capire un po' che cosa abbiamo già stabilito che leggerò il pulcino tommaso ma voglio guardarmelo un po' con calma stasera no me lo vedrò domani nell'ora di pranzo e quindi ho bisogno domani sera ecco domani sera avrò modo di studiare un po' e quindi domani non ci vediamo no non piangere solo domani poi torno subito a raccontarvi tante storie e stasera mi raccomando a nila che bello ciao stasera mi raccomando alle 21 e 30 diretta instagram insieme a valentina vinci e il suo profilo i viaggi dell'orsetto leggerò tantissimo leggerò 6 7 8 9 brani di 66 romanzi quindi direi che non dovete non potete mancare come al solito si intersecano non so se si può dire le cose perché io ho questo quarto d'ora di spazio e nel frattempo di là c'è una conference call quindi se sentite dei rumori delle voci sappiate che di là si sta si sta lavorando quindi cominciamo subito perché in realtà io alle 17 devo correre che ho un corso di lavoro allora l'idea di zampa noi ci siamo salutati come con isabella e zampa che si salutano e li promette di vedersi si promettono di rivedersi presto quantomeno isabella promette e in un certo qual modo anche l'hostess che questi amici di zampa avranno l'opportunità di volare giorgia ciao perché chiamate giorgia vuole sapere perché hai cambiato fondo per cambiare un po però se ti piace torno la è domani non ci sono ma dopo domani scrivelo se vuoi il mare io torno al mare d'accordo era per cambiare un pochino allora siamo pronti e ci siamo detti che si sono salutati e adesso vediamo che cosa dice zampa sono impaziente non vedo l'ora di tornare dalla mia regina e dal mio popolo per raccontare che cosa ho visto d'ora in poi i nostri giovani potranno provare l'emozione che ho provato io volando sul mondo in aereo isabella mi mette sulla testa e io assumo di nuovo la posizione da molletta per capelli il suo papà l'accompagna nel grande atrio delle partenze l'abbraccia forte e devo tenermi ben saldo per non cadere ecco che arriva aurora buongiorno isabella sono contenta di rivederti vieni con me tra poco chiameranno il nostro volo certo che aurora ha un vestito e un cappellino che sono dello stesso colore del corpo dei grilli di linate anzi sul suo cappellino ci potrebbe stare non uno solo di noi ma una decina i nostri viaggi potrebbero essere molto più frequenti se ci portassero le hostess i giovani del mio popolo potrebbero volare più spesso e sarebbero più felici ho un'idea e mentre aurora si allontana per prendere la merenda per isabella mi avvicino all'orecchio della mia amica e le dico quello che voglio fare ma sei sicuro che aurora accetterà non sono sicuro ma se non ci provo non lo saprò mai hai ragione quando siamo in volo le parlo prima io poi tu le dici quello che hai in mente isabella torna a milano salgo con aurora e mi siedo vicino a lei accanto al finestrino come all'andata le emozioni che ho provato occupano i miei pensieri tanto che non mi accorgo nemmeno del decollo penso alla mamma e a quello che le dirò in un attimo siamo in alto zampa mi gratta la testa e mi ricorda che devo parlare con aurora aurora le dico tu credi all'amicizia tra gli esseri umani e gli animali certo che ci credo a casa ho una gatta la quale voglio molto bene a volte mi agola in un modo che sembra davvero che mi stia parlando allora non ti spaventeresti se un animale ti parlasse beh forse non mi spaventerei ma di sicuro mi meraviglierei molto non credo che gli animali possano esprimersi come noi eppure ti giuro che possono te ne presento uno vuoi si chiama zampa ed è un grillo di linate buongiorno aurora dice zampa sbucando da dietro la mia testa aurora rimane immobile come una statua per la sorpresa così zampa riesce a dirle tutto d'un fiato che cosa vuole fare potremmo noi grilli di linate verdi come la tua divisa chiederti ogni tanto un passaggio sul tuo cappellino per entrare sugli aerei e viaggiare dato che non abbiamo le ali ma desideriamo tanto farlo cosa ma questo insetto parla come noi te l'avevo detto le ricordo non ho capito bene puoi ripetere chiedere volgenzo si a zampa è semplice spiega il mio amico i grilli di linate non hanno le ali ma vogliono volare se voi hostess ci fate entrare negli aerei sui vostri cappellini verdi noi possiamo provare l'emozione del volo e vivere più felici che ne dici tu lo faresti vedo che aurora è perplessa ma forse comincia a capire la richiesta di zampa penso di sì dovrei chiedere alle mie colleghe ma come mai sai parlare e non lo so ho sempre saputo farlo nel frattempo stiamo di nuovo sorvolando l'italia e zampa guarda giù dal finestrino sembra felice anche se aurora non gli ha promesso nulla zampa torna a casa stiamo per atterrare sono felice ho incontrato isabella ho volato ho visto il mondo sto tornando a linate e tra poco racconterò tutto la mia regina e al mio popolo non so ancora se aurora e le altre hostess ci permetteranno di entrare negli aerei in gruppo ma se non sarà possibile lo faremo uno alla volta spiegherò a tutti come arrampicarsi sulla ruota ed entrare nella pancia dell'aereo come io incontrato isabella sicuramente i miei compagni incontreranno qualche altro umano gentile disponibile a far vedere loro il mondo dal finestrino dell'aereo ora l'aereo ha toccato terra e sta percorrendo lentamente la pista saluto isabella ciao mia cara cara amica spero di incontrarti ancora quando andrai nuovamente a roma sono felice di averti conosciuta ricordati sempre di avere fiducia sempre non perderla mai vedrai che tutto andrà per il meglio e ti voglio bene o zampa grazie grazie mi hai aiutato a non essere triste spero di incontrarti ancora scendo sotto la poltrona e mi ritrovo di nuovo nella pancia dell'aereo seguo fili tubi e sbucco all'aperto sopra una delle ruote con un balzo sono a terra sulla pista mi guardo intorno e vedo tra l'erba proprio sul limitare della striscia grigia di asfalto un gruppo di grilli che evidentemente stanno aspettando proprio me eccomi cari figlioli sono tornato mi corrono incontro felici mi sollevano da terra e con un di canto e di gioia mi stringono e mi portano sulle loro spalle fino alla nostra grande tana isabella dopo che zampa è andato via aurora mi prende per mano e scendiamo dalla scaletta dell'aereo ecco il pulmino che ci porta al terminal mi guardo intorno e vedi grandi prati che circondano le piste dell'aeroporto di linate quello è luogo in cui abito nei grilli la regina zampa di smeraldo forse sta già ascoltando la storia del mio amico zampa oh sono così contenta di averlo aiutato ma ora devo pensare a me alla mamma che sicuramente mi sta aspettando arriviamo al terminal e tra la gente che aspetta vedo la mia mamma stavolta non è in ritardo abbraccia aurora ciao aurora ci vedremo spesso d'ora in poi ricordati di zampa e di quello che ti ha chiesto aurora stento a credere di aver incontrato un grillo parlante comunque quando vedrò arrivare in cabina dei grilli verdi permetterò loro di salire accanto a un finestrino e mi prenderò cura di loro grazie aurora e a presto la mamma si avvicina e corro tra le sue braccia la stringo forte 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 sai mamma papà mi ha detto che per voi non è un bel momento e che forse non tornerete più a stare insieme amore mio è vero non avevo avuto il coraggio di dirtelo apprezzo che te ne abbia parlato lui però sappi però che non abbiamo ancora deciso nulla e in ogni caso cercheremo di non farti mai 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 soffrire tutti e due nello stesso modo ti vogliamo un gran bene e vogliamo starti vicini il più possibile devi stare sicura non perderai ne me nel tuo papà è quello che ha detto anche zampa zampa mamma è una storia lunga ora te lo racconto fine allora vi è piaciuto il grillo io mi sono divertita tantissimo 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 allora nel frattempo sono arrivati francesca nel mio amore mattia poi sono arrivati silvia ciao silvia una fotografa bravissima che quando a imperi andiamo a lavorare a leggere lei è sempre lì pronta con la sua macchina un sacco di complimenti mi avete fatto oggi avete scritto che bello daniele è arrivato la valeria corciolani valeria corciolani sabrina debastiani daniele cambiato sono tutti autori che stasera leggerò nella mia diretta è alle 21 e 30 e c'è sarà rattaro che sempre dietro a samu quando c'è la diretta lei non c'è mai perché il bambino ma un po di campo di là allora alex è arrivato bene scusate faccio così come i pazzi ma perché vorrei ricordarmi di salutare tutti margot mi scrive sfondo va bene allora domani faccio festa dopo domani ritornerò a avere il mio sfondo guarda vediamo si riesca a fare un guaio è margot questo è per te guarda un po eccolo hai visto domani ci rive domani no dopo domani che giorno sarà giovedì ci vediamo qui allora bambini vediamo che ore sono 16 17 dunque non riesco a marcelo ciao francesca ciao con la mia collega francesca ci vediamo fra mezz'ora perché abbiamo il webinar che sono corsi online è la ragione per la quale in questi giorni ho anticipato il mio appuntamento delle 17 che credo che posticiperò ancora un po la prossima settimana faremo le 18 va bene se io vi leggo le favole alle 18 dalla prossima settimana scrivetemelo qua sotto allora mi salti ma no amore ho detto silvia silvia reds devo dire nome cognome silvia reds la nostra fotografa ho parlato mezz'ora di te allora io pensavo di leggervi un pezzetto di questo cosa ne dite oggi jacopo salta perché non ho fatto in tempo a scegliere una favola allora per non spoilerare io vado avanti eravamo arrivati se non sbaglio mi salta la connessione mi dice antonella ciao ragazzi ci sono un sacco di persone oggi mi potete scrivere quando volete se le 18 va bene secondo me è un orario perfetto e soprattutto va bene normalmente sapete che io mi collego tardi perché prima lavoro le 18 secondo me ancora meglio allora non mi ricordo esattamente dove ero arrivata da leggervi questo ma in ogni caso vi leggo secondo me eravamo arrivati al villaggio alla riserva che samu chiede alla mamma che cos'è una riserva come si chiama quel libro questo qui si chiama con te non ho paura di sarah rattaro io lo so che forse lo vedete allo specchio ma il mio tentativo di vedervi di farvelo vedere dritto se vi ricordate non ha portato grandi risultati ero io che ero al contrario allora veloci che poi mia mamma dice che sono prolissa andiamo a leggere dopo aver sistemato i bagagli sarah e samu andarono a presentarsi agli abitanti quando più tardi tutti si radunarono in circolo attorno a rumumba anche madre figlio si unirono al gruppo l'uomo stava per raccontare una delle sue famose storie il re leone l'animale con il ruggito più imponente dell'africa un giorno organizzò una grande e maestosa festa furono tutti invitati e nessuno poteva mancare solo un gruppo di antilopi non era convinto di partecipare e se fossimo noi proprio il cibo per il banchetto del re leone non c'è mica da fidarsi disse il capobranco degli antilopi non c'è da fidarsi ripeterono in coro le altre andrò io si fece avanti un coraggioso giovane se nessuno di noi si presenta potremmo destare i sospetti così gli animali cominciarono a radunarsi nel centro della savana i leopardi si muovevano in coppia gli elefanti in branchi e poi un po sparpagliati c'erano le zebre gli ippopotami i babuini e i serpenti si attendevano solo sciacalli e iene per dare inizio ai festeggiamenti le danze si aprirono e il cibo offerto dalla natura era davvero ottimo come sempre il re leone a un certo punto prese la parola come fa re leone come fa leone un po' ci assomigliò di ascoltatevi tutti disse mettendo un rugito che avrebbe attirato l'attenzione anche a chilometri di distanza voglio offrire un dono speciale a voi tutti che siete venuti a festeggiare insieme a me grazie risposero in coro gli animali avvicinandosi al loro re alcuni cercarono di scansare gli altri per poter avere il regalo migliore calma c'è qualcosa per tutti chi vuole delle corna si mette a destra ordinò il primo a farsi avanti fu proprio il coraggioso maschio di antilope bene da oggi le antilope avranno le corna ma sono le masche decretò il leone notando l'assenza delle femmine un rinoceronte cercò di strappare le nuove corna all'antilope così il re gridò beccati queste ficca naso e il rinoceronte si ritrovò con due grosse corna incastrate proprio nelle narici arrabbiato attaccò il re che a sua volta rispose con una zampata così forte da fargli saltare via un corno gliene rimase solo uno proprio al centro del muso le voglio che io le voglio che io gridò un elefante spostando tutti gli animali che aveva davanti a sé sei stato troppo prepotente caro elefante per questo le corna le avrei attaccate alla bocca e non le potrai mai spostare sulla testa ma così non riesco a respirare rispose il grosso animale prendi questo gridò il re lanciandogli un lungo un lungo naso avete capito sta raccontando la storia di come gli animali si sono formati e allora rinoceronte avrà soltanto un corno in mezzo al centro del muso e invece l'elefante avrà una grande provoscide con le due zanne ve le ricordate poi fu il momento per far indossare gli abiti più belli ai leopardi i suoi amici il leone regalò un manto maculato di squisita eleganza e alle zebre il suo cibo preferito donò i colori estremi il bianco e il nero così da poterle individuare ovunque fossero e a me hai dato i vestiti migliori agli altri gridò una giraffa il leone spazientito decise che tanta insolenza doveva essere punita per sempre con il silenzio e con un solo gesto tolse la voce all'animale dal collo più lungo quando si avvicinò al serpente i doni erano quasi finiti con disprezzo il re gli lanciò un cestino pieno di erbe il retile le mangiò ma il loro gusto era talmente cattivo da farlo sputare in continuazione le erbe si trasformarono in un potente veleno e l'animale iniziò a mordersi le zampe che si staccarono uno a una da quel giorno il serpente fu condannato a strisciare sulla pancia la tartaruga arriva troppo tardi per prendere qualcosa e la rana molto accaldata si buttò nel fiume per rinfrescarsi ma qualcuno le portò via gli abiti per questo da quel momento si aggira tutta nuda tra gli stagni solo quando fa buio non me la ricordavo assolutamente questa pagina è stupenda bene allora paola ben arrivata matilde ciao come si chiama tuo fratellino matilde non me l'hai mai detto sai o non me lo ricordo io perdonami allora io ho finito per oggi vi ricordo che domani non ci sarò vi do un grande bacio vi ricordo il mio canale youtube tra l'altro devo riuscire non so stanotte forse a pubblicare la fiaba settimanale del mercoledì che troverete poi sul mio canale youtube luci con due c la i underscore trattino basso legge luci trattino basso legge paolo e matilde ciao camilla è arrivata adesso te lo guardi indifferita non ti preoccupare io vado a lavorare vi do un bacio grande e grazie di essere con me e direi sempre più numerosi è una grande gioia ciao a presto ciao ricordatevi che domani non mi vedete e non mi aspettate ci vediamo dopo domani alle 16 e poi cambiamo orario ciao ciao